Rocco Brasso, sei un po' di ricaccia Allora, Hank, è uscito un articolo di Every Eye con Maddox in copertina Classico Media World, mi sembra ragionevole Prego io? C'è uno strano rumore quando ho dato Eh? Ho i pugni che fanno... che intonano Vai, aspetta Prego La piattaforma viola è ormai divenuta il punto di riferimento per gli streamer e i videogiocatori di tutto il globo Con una crescita di oltre il 100% di ore visualizzate su base annua Twitch è una realtà impossibile da ignorare e ogni giorno sono centinaia gli utenti che si affacciano al mondo del live streaming per provare a inseguire il sogno di farne un mestiere Allora, devo dire una cosa Apro un piccolo discorso Ho fatto... ho detto... Ho parlato pure con mia mamma Dopo aver parlato con gli zii di Luis Avere un ristorante non è diverso da avere un canale Twitch Attenzione Mi sono... mi sono messo a parlare con loro e mi hanno detto che ci sono tantissime cose simili a Twitch Allora, lì per lì mi sembra un po' una puttanata però se ci... Lo dice anche Paolo, veramente? No, il ristorante no Il ristorante... avere un ristorante non è andare al ristorante Perché hai il momento prima che devi preparare tutto Poi hai il momento dove devi pensare un po' al futuro E poi è il momento in cui devi servire gli ospiti Come... cioè... magari ogni sabio è un ospite Uno star è la stessa cosa allora Sì, esatto C'è il momento in cui devi preparare prima Il momento in cui devi fare le cose E il momento in cui devi servire gli ospiti Sì, 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 sì Concordo Comunque Puoi leggere come trappolone di report? Va bene I risultati però, come in tutte le cose Non arrivano per subito e facili Oh, scusatemi, aspetta, aspetta Ok, vai Oltre alla costanza e alla perseveranza Infatti occorre comprendere le basi della piattaforma E delle community Per riuscire a razzare il pubblico Cerchiamo dunque di intraprendere questo percorso Acquisendo prima di tutto consapevolezza Sui mezzi necessari E sulle condizioni essenziali oggi Per diventare uno studio del domani Ok, mi sento che Mi sento e credo che posso dare un aiuto E capire se quello che dicono Sono cose su cui puntare Cose su cui non puntare Per cui mi sento carico Grazie Smok Grosse torce per i due mesi Eccomi qua Sono pronto I'm ready La consapevolezza Il primo strumento è certamente questo Comprendere la piattaforma E capire come funziona Per poterne trarre un reale vantaggio Dopo aver dato un'occhiata Alle linee di guida della community E creato il nostro account di Twitch È necessario fare il punto della situazione E comprendere quali siano i nostri punti di forza E i nostri limiti Facendo fra cui anche quelli Di tipo economico È necessario possedere un'attrezzatura professionale O di ultima generazione Per avere successo Twitch E tu se ne sei la prova O meglio È necessario avere un buon setup Ma i limiti imposti Alla stessa piattaforma Lo rendono accessibile Rispetto ad altre realtà Vabbè Trasmissione 1080 60 fps Vabbè chi se ne fa Scusate Vado a fare Vado a fare Vado a fare Vado a fare Una prova Che L'attrezzatura così Vedete Tac Non è successo niente Non è successo niente Tutto va Come dovrebbe Non ti sento più eh Prova Sì Prova Prova Pronto Mi senti Eh Adesso sì Ma cosa fai Ma lascia stare Che te l'ho già spiegato Il tuo setup È come Mr Burns Ok Scusate Un minuto dopo Può ucciderlo Ma tu credi Che sia immortale Aspetta Fai un attimo Guardare il mio audio Prova 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 Grazie E Moderatori Mi potete dire Se va bene Già vedo il meme Del cane Deep web Moderatori Mi potete dire Se va bene Va bene Va bene Va bene Perfetto Perfetto Ci siamo Poi Vabbè Questo chi se ne fotte Dai vai giù Armi del mestiere Un aiuto imprescindibile Viene da OBS Alternative come Streamlabs No Una vera e propria cabina di regia Che ci permette La 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 Questo programma Open source Sì Solamente OBS Dei due Flussi audio e video Vabbè Non va bene Non va bene l'audio E che ne so io Devo sentirlo io Sì sentilo Prova 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 È tutto Sganassato Cosa vuol dire Eh Sembra super Clipposo Meglio È doppio A causa Della tv Di merda Meglio Non lo so Comunque ragazzi Quando mi dite Hank Fa eco Vuol dire La tv Di Omniatol Fa eco Non è Cioè È lui Che fa danni Non sono io È molto caldo Magari ci metto Dell'acqua Sì Ok Grazie Roberto Sento fruglio l'ecco Vabbè Mostrarsi in video Oh Questo mi sembra Grazie Roberto Alvelo bello Grazie Manmore Per i due mesi Si sente solo A destra Ma come si sente Solo a destra Inascoltabile Ma per il contenuto O per la qualità audio Prova Perché uno dei due Non si può aggiustare Ve lo dico subito Prova Perché uno dei due Non si può aggiustare Lo dico subito Prova Perché uno dei due Non si può aggiustare Lo dico subito Prova Perché uno dei due Non si può aggiustare Lo dico subito Prova Ma io non lo so Cosa va Cosa non va Non ne ho idea Vabbè Vabbè Sentite Andiamo avanti con come diventare streamer non fate quello che è io ho fatto delle cose in questa guida che voi non dovete fare prego ma si non dovete usare le telecam va bene una webcam è un bell'articolo ma è una rottura di coglioni da leggere in live vai avanti la tua voce conta mai sottovalutare l'impatto acustico la voce è un fattore determinante per questo motivo se l'insieme della fotocamera è sempre meglio mettersi un buon microfono sono d'accordo il setup di uno streamer con l'erba aspetta che chiude la porta è un bell'articolo oh yes ci sono I'm fucking back ok 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 il setup dello streamer di nerba non ci interessa mindset oh per concludere ricordate che la cartellista è essenziale per diventare uno streamer è la capabilità i primitempi di vostre sessioni live potrebbero addirittura rimanere vuote ma una propria creazione delle trasmissioni ricche di contenuti originali non passeranno certamente non sembrate come le mie trasmissioni piene di contenuti originali grazie a Ringo piene zeppe di contenuti originali contenuti originali contenuti originali non ho le cuffie non ho le cuffie i caro vuoi volare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti